e continua, e continua, e continua, e continua, abbiamo avuto tanti ospiti David Muzio, un applauso, un altro caro amico però David, ciao, avevamo deciso che faceva le cose con lui si, faceva? eh si, esatto David, avevamo deciso, eh, debollo, di ognuno debollo eh, si, te lo tengo finito vai dietro eh, ha capito niente devo fare l'altra ruota io ho visto Zorro sotto lui arriva da Nashville si, ti facciamo scherzo scoppia un'altra guerra ok, bravo, bravo ci sei, ci sei, dai vi ma ci sei dove? dico io dov'è ma non c'è il cavalletto sta roba no, 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 pet, 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 è buono, è buono, devi, buono devi, ci facciamo male, non torni più in Arizona ci facciamo male, dai buono il menisco, anche l'americano teni qua pet, teni qua prendere uno scooter, no via, via portalo via, lo porto via di qua dai, vai aspetta, vieni per misurare le strade, guarda vai, sellalo 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 al volo vai, come farà? oh, aspetta, fagli uno scherzo che se li fanno delle caglie per un po' vai, vai, sellalo ma qual è che faccio a sellarlo? mettili sotto la sella, vai che numero ha? aspetta, fai vedere dai, dai, muovi, ho capito, muovi, mica è facile dai, vai, ok, bravo, così, sì sei sicuro piano, piano, sì, vai vai che ergonomica, vai ergonomica, sì su, vai David David, dai, credici puoi sì David, se non sei capace, lascia perso un'altra cosa vai, vai, vai vai, vai vai, vai dai, vuole i coltelli, i coltelli vuole i coltelli eh, vuole i coltelli ah, che buchi se ci vai sopra tirilo non è, non è che la seconda eh, non è la seconda non è neanche quella di scorta la figura. Dagliali, dagliali. Vai, vieni qua, vieni qua. Devi, sai che ti vedo male? Sì. Secondo me erano arrivi alla fine puntata. Io dico, era bravo con le palline, perché erano? Aiutami, aiutami, oh! Tacc, 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 tacc. Dai, sanno pirla, vai. Dai, che lo tieni così. Cosa facciamo? Facciamo tutto il blocco così o? Io tiro l'infarto se continuo. Allora, David, cosa vuoi fare? No, tiragliela, decille. No, 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 David, oh, no, non ha neanche la scuola, la barba, vai via. David, David, morire. No, no, David, guarda che... Sì, sì, vai, vai, vai. Vai, oh, vai. Trettino. David, tieni. Eh? Non aveva visto il numero del mago di prima, questo qui, eh? Ok, bravo, David. Bravo, David. Bravo. David, cazzo. Stai attento che se cadi alla fine, eh? No, troppo ascolti. Vai, vai avanti, vai avanti, David. Vai che tanto... Vai che se cadi fai uno spiedo con la prima fila, eh? Vai, David, tredici. Ok, three, two, one. Ma no, non c'è niente da fare. David, ti brucio! Ovviamente abbiamo scherzato. Abbiamo scherzato, David, è uno dei più grandi di ottenere al mondo. Una delle più grandi, una delle più grandi. Grande, David. Ovviamente per far finta di non saper fare una cosa bisogna saperla fare molto bene. Grande, David. Però la sua specialità... Eh, sì. Sono le balle. Esatto, esatto. Lui sono dieci anni che fa girare le balle e si allena tre ore al giorno, ha fatto girare le balle più o meno 12.316 ore in tutto, insomma. Sì, penso io in 18 anni con te quanto l'ho fatto girare, eh? Vai a spiegarlo. Lui sei un campione. Tanto, tanto. Dai, David, facci vedere proprio una pillolina veloce. Vai! Dai! Ciao! Ciao! Grazie a tutti! No, però con, con! Secondo me, con 5 è facile! Io voglio provare dei record! Grazie David! Con 5 è facile! L'ho già visto fare, lo dovrei andare con 7 io! Con 7? Dai David! Dai! Ok, io ti raccomando! Non credo che capisci di quanto è difficile, i 5 balli. Ma se puoi fare 3 balli, io provo 7. Ha detto che non capiamo la difficoltà di farlo con 5. Allora, dato che non lo capisci, ha subito capito chi è l'ignorante dei due. Ha detto, io lo faccio con 7 se te lo fai con 3. Nooo! David! Ti tocca con 7! 7! 7 o'clock! Allora... Allora... 1... 2... Contale bene che sono tutte su un 7! Grande Ale! Wey! Bravo! 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 Crave amici... That's correct! Grazie wal' emotions! Bravo!! Down here! Un pelatino.... Un pelatino увидеть Oro! paintings in There! Wey oh Wey oh Wey oh Wey oh Uh oh